Siamo qui a Cuneo, oggi 7 di settembre, per presentare questa formazione che nasce dal progetto voluto dalla Commissione europea Pactesur, che è stato elaborato e finanziato dopo i fatti terroristici di Nizza in Francia e di Liegi in Belgio. Torino, città, è partecipante a questo progetto, come dicevo, insieme a Nizza, Liegi, Madrid e altre città europee, quindi noi Anci Piemonte, che siamo partner di questo progetto con Torino, abbiamo pensato di parlare con l'assessore Ricca, competente per la Regione, per finanziarci anche questa formazione, anche come dicevo prima, in tutti i comuni capoluogo e i comuni centri zona di ogni comune, proprio perché riteniamo che la Polizia Locale sia elemento fondamentale per gestire queste situazioni, ovviamente unitamente alle altre forze di polizia, per la conoscenza intrinseca del territorio. Siamo contenti di poter ospitare il progetto Pactesur nel comune di Cuneo, dopo essere stati presenti a quella che era la formazione a Torino sul progetto Pactesur e riteniamo che riesca a coniugare quelle che sono le esigenze di una sempre più mutata realtà della Polizia Locale nell'ambito della sicurezza urbana a quella che è una formazione qualificata che si avvale anche di tecnologia ultramoderna. Il progetto Pactesur, come dicevamo, è proprio qualificato per poter portare un'esperienza teorica e pratica in questo tema. È molto importante questa giornata di formazione che Anci Piemonte mette a disposizione delle città capoluogo e poi a disposizione dei territori di formazione delle polizie locali proprio sui temi della sicurezza urbana. Questo è un tema dove la sensibilità dei cittadini si sta alzando tantissimo. Tutto sommato una competenza, quella della sicurezza urbana alternativa all'ordine pubblico, ma che ricade sui sindaci anche relativamente da poco, rispetto al quale abbiamo molto bisogno di formazione, di comprendere ognuno il proprio ruolo e di svolgerlo anche con la massima competenza. Naturalmente abbiamo il tema delle grandi manifestazioni, abbiamo il tema dell'immigrazione, abbiamo il tema di flussi nuovi che arrivano nelle nostre città e rispetto al quale è necessaria la massima competenza ed attenzione per mettere in campo da parte degli agenti della polizia locale misure sia a difesa del personale lavoratore sulle strade, sulle piazze delle nostre città, sia a difesa delle nostre comunità. La massima attenzione permette a tutti di stare in sicurezza e di stare in tranquillità.